Armati di bandiera per seguire il Giro d'Italia. Armati di bandiera dalla Sardegna, per seguire il Giro d'Italia. Non c'è Aru, ci siamo noi. Siete proprio appassionati, siete partiti quando per arrivare qui? No vabbè, io sono partita da un po' perché non potevo seguirlo da noi quest'anno. E sono venuta qua perché c'è il mio compagno che è di qua e la seguiamo. C'è qualcuno in particolare per cui ti fate? Ah boh, tutti gli italiani comunque. Il tempo che vediamo questi Giro d'Italia e la TV finalmente li vediamo dal vivo. Molto emozionati perché è la prima volta che partecipo personalmente, è una cosa molto bella. Non è un'emozione, è una ripetizione e ricordo anche dei miei anni di gioventù. Sono molto contento che abbia fatto la top a Reggio Calabria. Mi ricordo un pochino la mia fanciullezza. Quando alla radio mi mettevo con l'orecchio teso ad ascoltare chi arrivava per primo. Sono emozioni che si ripetono. No niente, è una giornata, peccato per il tempo, però è una bella giornata di sport. Dominella Trunfio per la C News 24